dal governo ha delle conseguenze sulle persone, sui territori e quello che si appronterà nel prossimo futuro ha molto a che vedere con divari territoriali, sociali, sono questioni che approntate dal vostro punto di vista del governo ordinariamente che in questo momento sono problemi che certamente si acquiscono e quindi meritano non solo una riflessione ma un'azione perché quella azione di governo che è iniziata un po' di mesi che si fa possa tener conto del fatto che le cose sono più difficili soprattutto per i territori, le persone, le classi sociali che stanno meno bene. Ho terminato, do la parola a Enrico Letta, grazie per la tua introduzione e per la tua presenza anche oggi. A te Enrico. Grazie Marco, un saluto a tutti. Prima di cominciare vi ricordo e ricordo a tutti l'appuntamento di domani, molto importante perché domani abbiamo la Andrea Atta Lecture che abbiamo chiesto quest'anno a Lucrezia Reiklin di tenere e quindi sarà una bella occasione, un'occasione importante alle 15 e credo che valga la pena esserci, colgo quindi questa occasione per ricordarlo a tutti, domani alle 15 con le stesse modalità di oggi e Lucrezia Reiklin è una delle voci in Europa più autorevole, donna, grande, economista e sicuramente sarà molto interessante. Ringrazio moltissimo il Ministro Provenzano, entro subito nel merito perché credo sia molto importante dargli tutto il tempo necessario per esprimere i suoi pensieri e per raccontare quello che ritieni in questo momento opportuno rispetto ai temi che abbiamo davanti. Mi sento nell'introdurre il quadro di dargli una suggestione che è abbastanza scontata, non è niente di originale ma sicuramente interessante. Quando tu hai cominciato il tuo lavoro come Ministro, hai cominciato questo lavoro su uno scenario che si è totalmente rovesciato con la crisi della pandemia, perché la pandemia nel nostro paese è intervenuta dividendo ulteriormente il paese, ma dividendolo diciamo in un modo un po' inaspettato, cioè dividendolo nel senso che il nord è stato duramente colpito, il sud no. Questa differenza ha caratterizzato e ha accompagnato tutto il periodo dei due mesi e mezzo che abbiamo dietro le spalle, con polemiche violentissime, stereotipi assurdi, però con una situazione molto particolare, perché appunto il sud non colpito ma ha bloccato il nord che ha dato, in particolare la Lombardia, che ha dato le regole che sono state tarate sulla situazione peggiore. Tutto il tema del rientro, del rapporto tra le due parti del nostro paese e questo rapporto complicato tra le regioni e il centro. Quindi credo che la tua riflessione su come anche il tuo lavoro è cambiato in questi mesi e anche i riferimenti alle missioni, agli obiettivi che avevi, come hai dovuto e devi ritararli. Tu avevi subito prima della fine, cioè dell'inizio della crisi della pandemia, avevi lanciato e fatto approvare un grande piano per il sud. Come cambia tutto questo? Mi sento anche di aggiungere la cosa più importante, e cioè che questa pandemia, lungi da essere la livella di cui parlava Totò e di cui alcuni hanno parlato sbagliando all'inizio, cioè una cosa che tocca tutti, ricchi, poveri, persone fortunate, persone sfigate, eccetera. No, alla fine non è una livella, anzi l'impressione è sempre più, vado avanti a guardare cifre, dati, a rifletterci, a sentire commenti, e più vedo che la crescita delle disuguaglianze è la caratteristica principale di questo tempo e l'uscita dalla crisi rischia di essere una drammatica accrescimento delle disuguaglianze, un drammatico approfondimento dei fossati che già c'erano prima. E quindi il tuo lavoro, che è sempre stato in questi mesi molto orientato a questo tema delle disuguaglianze, immagino che avrà delle riflessioni su questi punti, e quindi siamo molto attenti a quello che ci dirai, preparati anche domande molto complesse, sono sicuro che una domanda sul tema dei lavoratori in nero, che è stata una delle questioni sicuramente più, ed è una delle questioni più complesse di tutta la vicenda, verrà fuori, quindi sicuramente avere il tuo punto di vista su questo concetto di aiutare tutti, sapendo però che chi è in linea con i suoi doveri di contribuente, insomma, in prospettiva futura deve essere premiato maggiormente, cosa vuol dire oggi aiutare tutti, cosa vuol dire riuscire quindi a cogliere quelle sacche di difficoltà che per esempio nel caso del lavoro nero al sud sono particolarmente evidenti, in alcuni casi sono purtroppo delle specie di schiavitù e dei caporalati che si ripetono ancora drammaticamente, e quindi si intrecciano problemi estremamente complessi. Quadro quindi molto difficile, molto complicato, disuguaglianze che crescono, è un grande sforzo che dobbiamo e dovete metterci, ti facciamo ovviamente gli in bocca al lupo per il tuo lavoro, e ti do subito la parola perché siamo tutti molto interessati a sentire le tue riflessioni su tutte queste vicende. Grazie ancora per dedicare ai nostri studenti e a tutti coloro che stanno in questo momento seguendo la nostra diretta questo tempo e queste tue riflessioni. A te la parola. Grazie Enrico, grazie Marco anche per aver ricordato il mio legame con la scuola di politica, con chi l'ha animata in questi anni. e vengo subito all'ultima questione che toccava Enrico in questo intervento introduttivo. Sì, si dice sempre che le grandi tragedie uniscono tutti in un solo destino. Per la verità, sempre più spesso mettono in risalto le fragilità, rischiano di allargare i divari, le disuguaglianze, che nel nostro paese hanno sempre comunque una fortissima connotazione territoriale. E arrivo direttamente al cuore della questione che volevo affrontare con voi, che è il rapporto nord-sud, ma non solo. A me viene sempre in mente forse l'incipit più bello della letteratura mondiale, che dice tutte le famiglie felici si somigliano, ogni famiglia sventurata e sventurata a modo suo. Perché è vero che questa pandemia ha colpito le regioni più sviluppate del nostro paese maggiormente, ma il lockdown, le conseguenze economiche e sociali, che ormai secondo tutti gli istituti di ricerca, non solo internazionali, ma anche nel nostro paese, saranno fortissime, più forti della grande recessione iniziata nel 2008-2009, stanno unendo il paese, si abbattono al sud su un tessuto economico e sociale molto più fragile, gravato da limiti strutturali molto profondi che noi conosciamo, che abbiamo studiato, di cui abbiamo parlato anche alla scuola di politiche, e soprattutto, lasciamelo dire così, con le ferite non ancora sanate della grande recessione, sia in termini di prodotto che di occupazione. La Svimez, che poi è l'istituto di ricerca da cui io provengo, ha fatto una stima nei giorni scorsi, in cui sostanzialmente ci fa vedere una recessione che è maggiore al centro-nord, ovviamente, però simile nelle aree del paese, solo che l'effetto di questa recessione consegna al sud 15 punti a fine di quest'anno, 15 punti di pilli in meno rispetto al 2008. È un dato che non ha, credo, un precedente, Alessandra Resu, mi correggerà se sbaglio, ma credo che non abbia un precedente storico. Questa pandemia non è una guerra, ce lo siamo detti molte volte, ci tornerò anche alla fine su questo aspetto, ma, insomma, solo un'economia di guerra può avere un paragone simile. E non sono solo dati, come dire, macroeconomici, c'è una preoccupazione molto fondata anche per quegli elementi di vitalità che aveva espresso il tessuto anche produttivo meridionale nel corso degli ultimi anni, c'erano state piccole e medie imprese che avevano avviato percorsi di modernizzazione molto forti, che si erano fatte valere sui mercati, erano state in grado di competere, di tenere in attivo la bilancia commerciale, ma i cui processi di modernizzazione erano in corso di consolidamento e rischiano di subire una fortissima, una brusca interruzione. E per effetto anche del loro livello di capitalizzazione, hanno un rischio di fallimento maggiore. E poi l'impatto di questa pandemia sul mercato del lavoro al sud, nelle aree più svantaggiate, è più forte anche perché lì quelle aree erano segnate da un tessuto, un mercato del lavoro, chiamiamolo così, più deteriorato, segnato da una più forte precarizzazione, da sacche di lavoro irregolare, di arretratezza, da un'incidenza della povertà assoluta e relativa in quelle aree che era molto più superiore rispetto a quella del paese e che rischia di subire una vera e propria esplosione. Tutto questo che cosa significa? Significa che quel rimbalzo che ci aspettiamo l'anno prossimo all'uscita di questa crisi in tutti i paesi che ne sono stati colpiti rischia al sud di trovare maggiori difficoltà in assenza di un'azione politica molto molto forte. E su questo lo anticipo, ma ci torno, per me questa azione significa attuare con maggiore urgenza, anche rivedendo alcune priorità, quel lavoro che avevamo già iniziato a impostare. Lo dico in assenza di un'azione politica molto forte, perché io adesso non so se, diciamo, voi che seguite la scuola di politica adesso, siete un paio di generazioni più giovani di me, e non so se si usa dire, come si diceva ai miei tempi, quando io frequentavo le scuole di politica o quando stavo al Sant'Anna e facevo amicizia con la mamma di Enrico, più che con Enrico, non se la prenderà, ma il legame vero è con la mamma che è la segretaria dell'associazione degli ex allievi della scuola. E lì mi ricordo si diceva sempre questa cosa, che l'ideogramma cinese della parola crisi contiene in sé il pericolo e l'opportunità, salvo accorgersi che non è vero, che non è così, quando si è cominciato a studiare veramente la Cina. Ma io ho sempre una grande fatica a dire questa cosa, che le crisi sono opportunità. Le crisi possono essere occasioni di cambiamento solo se si mette davvero a fuoco come funzionano queste crisi. E se noi guardiamo questa pandemia sull'Italia, l'ha detto qualcuno, questa pandemia sta agendo come un pettine che passa sul nostro paese e fa emergere tutti i nodi risolti fin qui, a cominciare dal processo di digitalizzazione che è andato a rilento e che è incompiuto e che è un fattore potentissimo di disuguaglianza non solo sociale ma anche territoriale tra le aree del nostro paese. Un'architettura istituzionale che è debole anche per l'indebolimento dei presidi centrali di coordinamento forti, in grado, per esempio, in un momento di emergenza di assumere decisioni omogenee su tutto il territorio nazionale. Questo è un tema, diciamo, di cocenti attualità sia nelle prime fasi della pandemia sia adesso che cominciamo a parlare di una fase nuova, di lenta, graduale ripartenza. C'è un indebolimento anche della macchina amministrativa ed è una di quelle ragioni per cui provvedimenti, scelte, decisioni assunte faticano ad arrivare in maniera rapida, spedita, veloce ai destinatari. C'è tutto quel tema su cui ci torno, ne eluderò la questione, visto che l'ho sollevata, ricordava Marco Meloni, anche suscitando un po' di polemiche, delle sacche di arretratezza che ancora vivono nel nostro paese, di irregolarità, di aree di illegalità. Questo, diciamo, lo stiamo vedendo in queste ore in cui ci accorgiamo che intere categorie, anche di lavoratori, in realtà poi sono essenziali alle nostre vite, ma sono quelli molto spesso malpagati, meno, diciamo, che erano rimasti in ombra da chi ci consente che il cibo arrivi sulle nostre tavole, chi si prende cura dei nostri anziani che non sono finiti nell'RSA e chi magari ci porta, ci fa le consegne a casa ai lavoratori della logistica. Ecco, diciamo, tutti questi elementi di fragilità del nostro sistema secondo me sono molto in risalto adesso e quindi noi, la politica, le nostre politiche sono chiamate a un salto di qualità fortissimo, non solo nel mettere a fuoco questioni che solitamente esulano dalla, lasciamelo dire così, dal gioco quotidiano della politica, perché questo so che per la squadra di politica è anche molto importante come si svolgono i processi decisionali e questo magari lo approfondiamo se qualcuno è interessato con qualche domanda, ma noi, diciamo, ci siamo anche come governo, come Consiglio dei Ministri, ci siamo occupati di cose che in realtà sono prioritarie nella vita delle persone, nella vita quotidiana delle persone, la vita stessa, la morte, la malattia, ciò che è essenziale e ciò che non lo è e sono questioni che in realtà solitamente sfuggono dalla grammatica abituale della politica, a cui la politica non è solitamente abituata a fare i conti e rispetto alle quali molto spesso, ora, di là del tema anche sui processi decisionali degli esperti che sono stati consultati, eccetera, ci siamo mossi anche con una scala di valori nell'assumere delle decisioni che, diciamo, sono diverse da quelle su cui solitamente si misura il gioco e lo scontro politico. La consapevolezza delle conseguenze economiche e sociali c'è stata fin da subito e lo abbiamo visto con le misure che sono state adottate anche su questo non mi soffermo qui moltissimo però è passato quasi sotto silenzio l'approvazione di un DEF in Consiglio dei Ministri che porta il rapporto deficit-PIL nel 2020 a percentuali che non conoscevamo dai tempi dai primi anni 80. Insomma, noi siamo davvero in una fase nuova, una fase che ci chiama tutti a una grande responsabilità. c'è questo elemento della dimensione territoriale che secondo me va messo a fuoco l'ho detto anche alla scuola di politica quando siete venuti a trovarmi ho voluto molto fortemente Enrico Letta lo sa perché quando è stato presidente del Consiglio ho avuto un ottimo ministro per la coesione territoriale che si chiama Carlo Trigiglia ho voluto che il mio ministero il ministero del sud riassumesse la dizione di coesione territoriale proprio nella consapevolezza che oggi questi divari territoriali non si riducono soltanto alla frattura storica tra nord e sud sulla quale io mi sono formato su cui mi sono esercitato a lungo ma riguardano nuove faglie di divisione città e campagna aree urbane aree interne e che sono straordinariamente interessanti in questa fase della pandemia certo la frattura nord e sud rimane il primo vincolo da rimuovere per un rilancio dello sviluppo e questo vale anche oggi Enrico mi diceva cosa resta di quel piano che avevi presentato giusto una settimana prima che scoppiasse la fase più acuta della pandemia ma io credo che seppur elaborato in tutt'altro contesto quel lavoro credo sia ancora valido e utilissimo alla ripartenza quindi forse per questo da attuare con maggiore urgenza e il processo di attuazione come Alessandro lo sa è andato avanti anche in queste settimane di lockdown è ancora valido per la prospettiva che aveva cioè perché a fronte di un processo di lungo disinvestimento che c'era stato al sud si poneva l'obiettivo di un rilancio non solo nell'immediato di una mobilitazione di risorse importanti ma anche di una prospettiva di lungo di medio lungo periodo nel merito è valido per i fabbisogni e le missioni strategiche di investimento che individuava a partire dalla necessità di colmare i deficit infrastrutturali per garantire i diritti di cittadinanza su questioni sulle quali stiamo maturando la consapevolezza di quanto siano essenziali a partire dalla scuola dalla salute anche in questa fase della pandemia insomma il tema dell'ammodernamento delle nostre scuole della digitalizzazione delle nostre scuole così come del rafforzamento dei presidi sanitari territoriali erano cose che già avevamo individuato nel piano per il sud che oggi forse devono come dire se è possibile essere ancor più prioritarie nell'agenda e nell'attuazione e poi anche sul piano del metodo quello aveva un'impostazione secondo me diciamo molto molto valida perché configurava una nuova politica territoriale cioè una politica più attenta ai luoghi più attenta ai comuni più vicina ai comuni anche nel nel processo di attuazione amministrativa una rigenerazione amministrativa che faceva i conti con una macchina pubblica arrugginita in molti casi priva e povera di competenze necessarie a realizzare quei processi diciamo efficaci di cui abbiamo visto quanto bisogno ci sia oggi insomma le ragioni alla base di quel lavoro sono più attuali di prima ma non solo lasciatemelo dire così in termini un po' più generali poi se siete interessati entriamo nel merito non solo appunto per tutte le cose che ho detto ma anche per quale idea d'Italia e di paese ci diamo ma io credo che oggi a maggior ragione diciamo rispetto a ieri quando saremo chiamati a fronteggiare una pandemia che ha dimensioni globali e non sappiamo su scala globale quanto durerà quanto si proterrà anche nel caso in cui l'Italia riuscisse tra virgolette uscirne prima di altri ma difficilmente possiamo immaginare che lo sviluppo la crescita di un paese di 60 milioni di abitanti possa essere affidato soltanto ad alcune aree limitate ad alcune poche imprese le cosiddette gazzelle che poi esportano sui mercati si dice che dobbiamo riaccendere i motori del nostro paese ecco bisogna riaccenderli tutti bisogna riaccendere anche quelli che sono stati spenti in questi anni o quelli che hanno girato a un regime troppo troppo basso questo è quello di cui a mio avviso abbiamo maggiormente bisogno in questo passaggio e quel piano aveva anche un altro diciamo elemento di attualità che pur nel rispetto appunto di questa del territorio anzi di un legame maggiore con il territorio si poneva l'esigenza di avere un presidio centrale più forte in termini di capacità di coordinamento di armonizzazione delle scelte e se questo è stato drammaticamente evidente nel caso della gestione dell'emergenza in cui noi avevamo la necessità pensiamo al settore sanitario dopo diciamo un dopo anni in cui di fatto il livello centrale aveva smesso ogni funzione di coordinamento strategico di recuperarla così secondo me sarà necessario nella fase della ripartenza e lì noi l'avevamo previsto avevamo previsto il rafforzamento dei centri di competenza nazionale sulle politiche di sviluppo e di coesione che come vedete sono essenziali e sono importanti c'è una ragione in più perché abbiamo secondo me il dovere di fare i conti con i nodi risolti del nostro sviluppo tra questi appunto c'è il tema del sud del nord delle aree più svantaggiate delle fasce sociali più deboli che riguarda anche il rapporto con il tema delle mafie noi sappiamo ce lo dice ce lo dicono oggi la direzione nazionale antimafia ma ce lo dicono le inchieste ce lo dicono le analisi che guardano al passato noi sappiamo che in ogni crisi c'è sempre il tentativo da parte delle mafie di conquistare non solo nuovi spazi di mercato e posizioni più forti nel tessuto economico in cui riescono a infiltrarsi ma anche di riconquistare un consenso sociale che diciamo la verità negli ultimi anni si era fortemente affiorito sono lontani tempi in cui nel nostro paese c'erano manifestazioni di solidarietà nei confronti dei mafiosi anche se ci sono episodi che non vanno ovviamente sottovalutati le mafie durante le crisi hanno uno strumento molto molto potente che è quello della liquidità la liquidità criminale che mettono a servizio appunto delle imprese qualora diciamo ci siano dei vuoti da parte delle istituzioni non arrivano le istituzioni anche dei cittadini ecco io credo che le risposte che abbiamo dato fin qui abbiano avuto o almeno da parte mia hanno avuto la consapevolezza di reagire e di prevenire anche questo fenomeno cioè quella grande liquidità alle imprese che abbiamo previsto con i decreti di liquidità l'esigenza di un come dire di un sostegno sociale molto molto forte eradicato è stata anche una risposta a questo cioè la volontà di prevenire appunto quell'allargamento delle mafie è un tema che riguarda tutto il paese ormai perché il grado di penetrazione delle mafie si è steso dai territori in cui tradizionalmente erano insediate a tutte le aree territoriali italiane basta leggere cosa dice la DDA di Milano sulla presenza mafiosa in Lombardia ma questo è un tema diciamo essenziale secondo me anche alla credibilità che ha il nostro paese nei confronti degli investitori internazionali anche nei confronti dell'estero c'è stata da parte delle mafie se mi soffermo su questo punto ma è fondamentale anche una certa propaganda durante questa pandemia anche utilizzando i social network cioè le mafie che si presentavano come quelle vicine ai cittadini che distribuivano aiuti alimentari devo dire che io diciamo sono stati nel governo tra quelli che ha sollevato la questione e avere avuto una risposta immediata benché limitata parziale da rafforzare ulteriormente come la previsione di bonus alimentari per gli indigenti proprio nei giorni in cui le mafie facevano diciamo quella propaganda è stata la risposta e la dimostrazione anche simbolica di uno Stato che non vuole lasciare spazi ad altri questo secondo me significa in primo luogo non lasciare indietro nessuno tra i nodi da sciogliere e da risolvere c'è il tema dell'Europa il nostro rapporto con l'Europa che è un rapporto essenziale diciamo la verità e anche quello so che ne avete parlato voi siete in contatto con il ministro Mendola lui lo dice ce lo diciamo spesso tra di noi è stato anche quello su cui un po' è nato questo governo la vera discontinuità con il governo precedente era proprio su un'adesione convinta al processo di integrazione europea in un momento in cui ma di questo siete più esperti voi di me anche questa pandemia di carattere globale ha delle ripercussioni geopolitiche che il nostro paese affronta solo e ha le spalle per affrontare solo nella dimensione europea ecco su questo aspetto diciamo che dopo le prime incertezze e i tentennamenti che abbiamo visto a livello europeo ma oggi noi registriamo una risposta anche in questo caso senza precedenti che è stato il frutto anche di una battaglia politica in cui i governi nazionali hanno avuto posizioni politiche molto diverse interessi geopolitici all'interno dell'Europa diversi che si sono finalmente manifestati in un dibattito mi verrebbe da dire trasparente poi si fa presto a dire Europa perché è Europa la commissione che ha assunto decisioni importanti Europa la BCE che proprio in queste ore sta svolgendo un lavoro diciamo fondamentale non solo mi verrebbe da dire per il nostro paese ma per la tenuta dell'Eurozona ovviamente in primo luogo per il nostro paese nel momento in cui un'agenzia di rating in maniera forse un po' ingiustificata ha declassato il nostro rating ma insomma poi c'è il tema dei governi nazionali degli egoismi del cirismo e anche della miopia mostrata da alcuni che alla luce di una discussione molto molto forte è stata affrontata io penso che la strada aperta nell'ultimo Consiglio Europeo rappresenti veramente un passo importante e che va seguito fino in fondo ho detto ai miei colleghi di governo e io pongo su questo un'avvertenza nella nostra discussione che i nuovi strumenti europei comuni non devono andare a scapito delle politiche di coesione delle politiche di coesione territoriale che sono diciamo il vero la vera politica la principale politica del bilancio comune dell'Europa e che non può essere piegata per altri obiettivi anzi al contrario sono questi strumenti comuni che devono porsi il problema di colmare i divari anche a livello europeo cioè le linee di credito per le spese sanitarie vedremo alla fine di questo negoziato come saranno ma devono essere indirizzate nei confronti di quei paesi per esempio dell'Europa del Sud che più pesantemente hanno subito gli effetti della pandemia il piano di rilancio di investimenti europei per la ripresa non può non tener conto della necessità di attivare i potenziali di sviluppo inespressi da dove ce ne sono di più e quindi anche in questo caso significa innescare processi di coesione noi a questa sfida in questo scenario europeo dobbiamo presentarci come un paese che ha una visione una consapevolezza di sé in questa visione in questa consapevolezza di sé a mio avviso c'è il grande tema del rapporto tra Nord e Sud di riscoprire un'interdipendenza tra le aree di pensare per esempio alle realtà portuali del mezzogiorno questo nel piano Sud ce l'abbiamo ben presente come l'occasione non solo diciamo per le imprese del centro Nord di riscoprire l'interdipendenza tra le aree ma anche per esempio di puntare a possibilità di back reshoring di imprese diciamo che possono tornare in Italia attraverso grandi politiche di attrazioni e di investimenti su questo bisogna agire sul contesto ma bisogna anche immaginare di provare a guardare meglio questa Italia nel guardare meglio questa Italia accanto al tema Nord-Sud c'è un'altra grande questione che emerge poi Marco se vado troppo lungo mi fermi ma questo è un tema secondo me fondamentale che è la grande questione appenninica è un tema che noi abbiamo avuto chiaro da sempre nel piano Sud che abbiamo chiamato però piano di sviluppo e coesione per l'Italia perché davvero c'è questa visione di fondo di quanto lo sviluppo di un pezzo del nostro paese e il mancato sviluppo di un pezzo del nostro paese abbia inciso su tutto il resto c'è anche la consapevolezza di quanto siano essenziali le aree interne su questo devo dire che l'Italia aveva messo a fuoco con Fabrizio Barca da anni l'esigenza di dotarsi di una strategia per queste aree anche prima che il tema diciamo diventasse di moda per ragioni anche politiche oggi per fortuna si sta prendo un dibattito su questo so che voi avete incontrato o incontrerete Stefano Boeri con il quale abbiamo fatto una lunga conversazione nei giorni scorsi proprio su questo tema sulla riscoperta lasciatemelo dire così della campagna ma non è questo cioè non è un piccolo mondo antico da riscoprire non è l'ideale romantico del voglio andare a vivere in campagna è l'esigenza di rivitalizzare luoghi che credevamo completamente abbandonati e che invece sono una riserva importante non solo di patrimonio e di capitale naturale culturale di biodiversità ma anche una riserva di possibilità di sviluppo in questo caso devo dire che alcune forme di organizzazione sociale che abbiamo inevitabilmente sperimentato in questa pandemia come lo smart working o anche solo quello che stiamo facendo noi la possibilità e la facilità di riunirsi attraverso i canali digitali ridanno una possibilità una centralità a quei luoghi c'è una precondizione molto molto forte che è quella di colmare il divario digitale che nel nostro paese era già inaccettabile prima di questa pandemia e adesso lo scopriamo in maniera forse drammatica noi abbiamo molto lavorato su questo stiamo molto lavorando su questo anche con interventi diciamo di merito riprogrammando i fondi europei questa è una questione diciamo un po' più tecnica sulla quale forse se siete interessati possiamo tornare dopo per esempio per fornire strumenti digitali agli studenti che provengono da famiglie meno abbienti ma anche colmare il divario in termini di infrastrutturazione richiamando gli operatori e i concessionari italiani alle loro responsabilità su questo forse scontiamo anche un po' il modo in cui ci organizziamo come paese come istituzioni noi abbiamo affidato la realizzazione di un'infrastruttura strategica di cui avevamo drammaticamente bisogno attraverso una gara al massimo ribasso che diciamo non ha diciamo incentivato l'impresa giudicataria a fare quegli investimenti necessari a darci in tempo l'infrastruttura al di là degli intoppi burocratici che pure ci sono stati c'è un rimpallo continuo di responsabilità tra operatori e forse su questo anche qui come paese paghiamo l'incapacità di compiere alcune scelte strategiche come ad esempio una rete unica delle telecomunicazioni questo è un grande è uno di quei nodi risolti che forse dovremmo provare a risolvere certo quello che abbiamo imparato con questa crisi una delle lezioni di cui tenere a mente è la necessità appunto di essere vicini ai territori alle proprie diversità per esempio sul tema sanitario abbiamo scoperto che un modello di presidio territoriale di assistenza territoriale molto più efficiente e più utile anche nei confronti del virus di un modello ospedalocentrico e da questo punto di vista come c'è l'altra faccia della medaglia scopri quelle aree interne come luoghi in cui si sperimentano buone pratiche di telemedicina di mobilità sostenibile di insegnamento a distanza cioè tutte quelle cose che abbiamo sperimentato adesso e devo dire che forse se un'occasione c'è stata anche nel rapporto tra territori in questa crisi è far giustizia di tanti luoghi comuni io questo sembra che diciamo centri poco nella nostra discussione pubblica però invece quanto il dibattito nel corso degli ultimi vent'anni forse in tutta la seconda repubblica è stato inquinato dai pregiudizi reciproci tra nord e sud e tutti siamo stati allarmati nella primissima fase della pandemia su ed io per primo per la responsabilità che ricopro su cosa avrebbe significato l'eventuale dilagare del contagio al sud in termini di capacità di risposta del sistema sanitario meridionale all'emergenza salvo scoprire pochi giorni dopo che uno degli ospedali meglio attrezzati a fronteggiare il virus era a Napoli con un come dire un senso un po' insopportabile di sorpresa che è dilagato nel paese questo non significa che non ci siano quei deficit e quei divari che io sono chiamato ad affrontare e anzi io dico sempre dobbiamo evitare che le eccellenze al sud diventino eccezioni ma vedere diciamo pazienti bergamaschi o bresciani curati negli ospedali meridionali e uscire ringraziando quei territori forse aiuta a fare un discorso un po' più maturo rispetto a quello diciamo un po' da bar che ha condizionato il rapporto tra nord e sud in tutta la seconda repubblica io credo che in questo ci sia anche un grande tema di giustizia sociale guardate che la questione che riguardava per esempio gli ultimi le fasce più vulnerabili anche quelli che abbiamo chiamato lavoratori nero ed io non mi sono mai riferito ovviamente agli evasori fiscali per rispondere anche un po' a quello che giustamente diceva Enrico non ovviamente lungi da me parlare degli sfruttatori mi ponevo diciamo il problema degli sfruttati di come offrire in questa crisi che è una crisi che colpisce anche quel mondo sommerso occasioni di emersione nella legalità a persone che invece avendo subito il ricatto del bisogno si sono trovati in quelle condizioni di vulnerabilità e ovviamente il lavoro buono lo crei rilanciando gli investimenti pubblici e privati facendo innovazione questo è il percorso che va fatto ma in questa crisi la garanzia di una dignità di un minimo di dignità anche con un sostegno può essere la premessa per ricostruire con quelle fasce più vulnerabili della società un rapporto una vicinanza con lo Stato questo tema della giustizia sociale è un tema che ci dobbiamo tenere caro anche dopo perché noi siamo entrati in questa crisi chiudo su questo aspetto come il paese più diseguale d'Europa e possiamo uscirne come quello diciamo in cui le disuguaglianze sono esplose ancora di più per farlo dobbiamo mettere in campo delle politiche io ho sollevato nel governo una questione politica che è giusto esplicitare anche qui che mi date l'occasione di parlare di questo tema delle disuguaglianze è che la redistribuzione che non è alternativa allo sviluppo ma a mio avviso è un elemento per avere una crescita più equilibrata più sostenibile più robusta e durevole nel lungo periodo non si può fare sempre in deficit la redistribuzione non si può fare sempre in deficit e abbiamo la necessità di mettere mano non oggi che viviamo questa crisi ma quando ne usciremo a una riforma fiscale nel segno di una maggiore giustizia sociale perché oggi questa non c'è più del resto questo tema della giustizia sociale è stata oggi abbiamo fatto questo incontro per festeggiare la nascita di Enrico Mattei omaggiare così Alessandro Arezzo no a parte gli scherzi diciamo tutti quei protagonisti della ricostruzione noi sappiamo che questa parola viene evocata un po' a sproposito anche in questo momento perché la pandemia non è una guerra non ci sono macerie non ci sono città bombardate da ricostruire ma c'è un mondo di cose spento abbandonato da rigenerare da rivitalizzare ma diciamo tutti i protagonisti di quello spirito della ricostruzione ebbero diciamo come stella polare quella di rimettere in piedi questo paese ma rispondendo non solo a un disegno di modernizzazione ma anche all'allargamento delle opportunità e del benessere del miglioramento delle condizioni materiali di vita per tutti io penso che visto la profondità dell'impatto di questa pandemia questo sia un tema molto molto attuale molte cose del mondo di ieri sono finite il mondo di domani ha bisogno di ripensare anche un po' diciamo le leve gli strumenti per realizzarla questa giustizia sociale io sono molto molto orgoglioso e penso che questo sia l'elemento di maggiore attualità che il piano per il sud 2030 metteva al primo posto la formazione la conoscenza l'istruzione il sapere io l'ho visto l'ho vissuto lo vivo diciamo anche sulla base del mio percorso personale individuale dal insomma venivo da un piccolo paesino e devo tutto quello che so allo studio alle occasioni che ho avuto di formazione pubblica in tutto il mio percorso di vita ma oggi in questo momento di pandemia in cui ci siamo visti un nemico impercettibile così insidioso un virus ci siamo all'improvviso scoperti come esseri umani esposti al capriccio della fortuna abbiamo bisogno di trovare anche degli argini forti come comunità di comunità di persone e gli argini ai capricci della fortuna questa era l'idea che aveva Machiavelli della politica la politica come diciamo un fatto umano che deve provare ad arginare appunto la fortuna ai suoi capricci questo argine è proprio l'investimento in conoscenza e in sapere da questo credo dobbiamo cominciare a ricostruire benissimo grazie Peppe mi sembra che abbia descritto molto bene sia temi contingenti sia come da questi si può mantenere una linea anzi potenziarla che caratterizza la tua azione nel governo e devo dire anche la tua ispirazione ideale direi così come facciamo spesso prendiamoci due minuti di due tre minuti nei quali è possibile che gli studenti si preparino con le loro domande chiederei ad Alessandro se ti va di diciamo così fare una chiosa un po' commento e anche in qualche misura contribuire alla riflessione che poi verrà compiuta in base alle domande e all'osservazione dei nostri studenti non hai l'audio no una delle riflessioni secondo me si può collegare diciamo allacciando il discorso Peppe Provenzano ha anche cercato di dare un contributo culturale al dibattito italiano da ministro cosa che in genere diciamo è piuttosto rara o inattuale penso in particolare all'articolo che ha scritto per il mulino assieme ad Emanuele Felice e che poi ha portato a un ampio dibattito sulla rivista Pandora peraltro al quale hanno partecipato tanti studenti nella nostra rete di alumni quello che vediamo in questa fase è effettivamente il ritorno di alcune sensibilità in particolare sensibilità sociali attenzione per lo stato sociale e per la sua diffusione fatto che in qualche caso vi ricordo un tema di sostenibilità anche per gli stati per le potenze penso agli Stati Uniti che hanno avuto spesso una visione dello stato sociale in particolare delle prestazioni sanitarie molto lontana rispetto a quello a cui siamo abituati nei modelli europei pur con alcune differenze territoriali e si sono ritrovati a dover concedere dei livelli di assistenza in alcuni casi maggiori perché la loro società la loro stessa potenza diciamo non poteva reggere questo urto in questo modo è l'approvvigionamento sui territori diciamo in Italia in Francia in Germania negli Stati Uniti di strumenti di assistenza penso insomma ai dispositivi di protezione con cui abbiamo tutti acquisito familiarità in questo periodo sono diventati diciamo fattore di competitività nella loro la capacità di diffondere questi strumenti di difesa sociale diventa diciamo la tenuta di alcuni sistemi che non si possono realmente permettere questi questi buchi neri sociali che spesso caratterizzano la nostra società lì l'incognita è capire diciamo quanto c'è di strutturale in alcuni di questi approcci in alcune di queste attenzioni ovvero se ci stiamo raccontando adesso che questi elementi di vicinanza diffusione sociale e investimento nelle infrastrutture sociali fanno parte diciamo di come cerchiamo di immaginare il mondo di domani oppure se resteranno diciamo proclami di alcuni articoli del financial times pronti a essere sostituiti in autunno o a dicembre con articoli sulla stessa pubblicazione che ci diranno pressoché il contrario quindi questa è una riflessione secondo me da tenere presente nella nostra riflessione sulle politiche e si può fare un po' facendo insieme politiche pubbliche e facendo un po' cultura e formazione allo stesso tempo che è poi ciò che attraverso diverse funzioni cerchiamo anche di fare ma ora insomma la palla ai nostri studenti che vedo hanno diverse mani alzate esatto allora grazie Alessandro io farei così abbiamo un po' di domande farei due o tre blocchi se riusciamo due chiedo per prima Lucilla Troiano di intervenire poi abbiamo Silvia Cavazzini e Gennaro Tortorelli con brevità per tutti e attivando l'audio per tutti audio posso andare quindi vai io mi sono guardata visto che sto seguendo un po' quello che fa Fabrizio Barca proprio un suo intervento del ministro provenzano con Fabrizio Barca in cui praticamente lei ha più o meno ammesso che il governo non ha messo sufficientemente a fuoco quanto nella fase 2 il coinvolgimento delle reti di cittadinanza attiva del terzo settore poteva essere decisivo perché queste realtà sono più prossime alle realtà territoriali però non lo è stato e il terzo settore non è stato interpellato e oggi che prossimità è la parola sulla bocca di tutti mi chiedevo che cosa sta facendo lei e che cosa potrebbe fare di più lei che è più consapevole di altri dell'importanza di questo tema per favorire questo dialogo e questa alleanza tra governo e associazioni interpellando le associazioni prima di scrivere le norme e di disegnare gli interventi per quella che le chiama rigenerazione grazie benissimo grazie tu eri Silvia Cavazzini non Lucilla invece Lucilla Troiano ora domande brevi perché si stanno esprimendo quasi tutti i partecipanti oggi evidentemente tra un ministro più giovane sono maggiormente indotti i nostri studenti a dialogare con voi vai Lucilla salve allora io innanzitutto sarò breve però voglio fare una precisazione che parlo dall'alterpinia quindi la concezione di aree interne la differenza e le varie differenze tra nord sud periferia campagna le vivo e vivo adesso soprattutto la questione del digital divide ho seguito gli interventi sia dell'ex ministro Barca che dell'architetto Boeri per la rivalutazione dei borghi anche in vista di quelle che sono delle distanze sociali che nei borghi possiamo tranquillamente avere io la mia domanda è appunto questa noi abbiamo soprattutto qui in Artifinia penso che lei ministro lo saprà abbiamo avuto un progetto pilota che si è dimostrato scadente non effettivamente valorizzato al massimo infatti oggi ne paghiamo diverse conseguenze tra cui appunto quella delle infrastrutture di internet ma anche a livello di servizi sanitari carenti lei come vede un posto territori come il mio quello appunto dell'Alterpinia all'indomani della pandemia se effettivamente può essere incisivo nel dibattito nazionale grazie grazie Lucilla Gennaro Torprelli ecco innanzitutto grazie per l'opportunità niente due domande brevissime la prima sul sulle misure di sostegno al reddito che si sono state rese necessarie come risposta alla crisi attuale se il propagarsi nel tempo di queste misure il diventare strutturali possa essere poi alla fine di giovamento per alcune aree del paese soprattutto per alcuni per cercare di far emergere moltissime moltissime aree marginalizzate e moltissimi moltissimi outsider del mondo del lavoro siano essi appunto lavoratori cosiddetti in nero oppure inattivi in Italia ce ne abbiamo tanti quindi che cosa pensa in generale il ministro di misure di sostegno non condizionali parlo di reddito di base misure simili quanto in questo momento e poi nel futuro saranno necessarie in secondo luogo brevemente io parlo in questo momento dalla città di Matera che sembrava essere in rampa di lancio dal punto di vista di sviluppo adesso potrebbe essere potrebbe ritrovarsi come molte altre realtà con un tessuto sociale fortemente indebolito e quindi visto la necessità che avremo di imparare a convivere con la nuova normalità come si potrà rilanciare le economie locali che sono sostanzialmente del tutto basate sul turismo e se appunto un modello di sviluppo basato sull'economia del turismo sia pensabile in tempi di ridotta mobilità grazie benissimo molto chiare molto interessanti e stimolanti a te la parola Peppe e poi si prepareranno i successivi studenti che intervengono vai allora vabbè tutte queste domande meriterebbero diciamo risposte articolari proprio ad essere sintetico io sono stato tra i primi a denunciare l'insufficienza delle misure che abbiamo assunto nel decreto cura Italia sul fronte sociale ma lasciatemi rivendicare anche quello che abbiamo fatto nel senso che noi in pochi giorni abbiamo fatto una manovra che solitamente si fa in un anno un decreto in una settimana che è di 25 miliardi insomma un intervento molto molto forte che inevitabilmente ha agito sugli strumenti più tradizionali esistenti la cassa integrazione indero che può dare sostegni sociali ovviamente molte realtà sono scoperte diciamo da quelle da quelle misure in primo luogo c'è un tema di lavoro autonomo del nostro paese che riguarda soprattutto le nuove generazioni e lì avevamo l'esigenza abbiamo l'esigenza e lo faremo nel prossimo decreto di rafforzare diciamo strumenti di sostegno a quel lavoro che molto spesso è un lavoro che si è impoverito anche tra le fasce più professionali cioè ci sono nostri coetanei giovani anche come voi che con una partita IVA in realtà anche svolgendo attività professionali molto molto importanti vivono una precarietà che li esclude dalle forme tradizionali di sostegno e poi c'è un altro c'è un'altra fascia sociale che è una fascia molto molto più vulnerabile e che cresce con la pandemia perché il rischio di scivolare in condizioni anche temporanee di povertà è molto molto forte e su questo abbiamo l'esigenza di rafforzare l'universalismo di alcune misure io ho proposto e stiamo lavorando in questa direzione nel sospendere alcune condizionalità alle misure esistenti anche di utilizzare un po' tra virgolette utilizzare questa occasione per rivedere alcuni vincoli che esistono nel reddito di cittadinanza e che avevano una loro funzione ovviamente per rendere più efficace quella misura a mio avviso non solo i vincoli patrimoniali che in questo momento rischiano di essere un limite voi dovete sapere che diciamo se hai 15 mila euro di risparmio privato che magari un padre di famiglia che mi scrive diciamo in queste settimane non vuole intaccare perché magari con quelli immagina di assicurare il futuro anche di studio al proprio figlio non accede al reddito di cittadinanza questa è la cronaca quotidiana di molte famiglie soprattutto nel mezzogiorno ecco a parte quello per esempio una cosa abbastanza necessaria in futuro sarà quella di rendere compatibili di misure di integrazione al reddito con il lavoro perché altrimenti il rischio di scivolamento in condizioni di lavoro regolare è ancora più forte devo dire che noi diciamo io non bisogna affermare i propri punti di vista ma non bisogna mai diciamo affezionarsi a delle formule eccetera è l'obiettivo di fondo su cui stiamo lavorando in primo luogo con il ministero dell'economia e di avere però nell'emergenza una misura che arrivi anche a quelle fasce che sono scoperte dalle altre forme di sostegno nel segno dell'universalismo il dibattito invece anche un po' filosofico sul reddito universale di base quello lo facciamo un'altra volta mentre tutto il tema delle aree interne è fondamentale guardate io ho usato uno slogan già prima che scoppiasse questa pandemia trasformare la sperimentazione che aveva avviato Fabrizio Barca in una vera e propria politica strutturale che affrontasse anche alcuni dei limiti che ha avuto quella strategia che ha fidata alla diversità regionale molto spesso ha seguito percorsi diversi così oggi noi registriamo in alcune aree pilota che sono partite magari nello stesso periodo differenze molto molto forti abbiamo percorsi di avanzamento non solo nel centro nord per esempio nell'Appennino Emiliano ma anche nel Basso Sangro in Abruzzo che sono all'avanguardia invece altre aree che avevano tutte le caratteristiche per poterlo fare ma condizionate da una pluralità di fattori questo abbiamo anche qui l'idea è io ho raddoppiato le risorse per la strategia delle aree interne e accanto diciamo al mettere a fuoco l'esigenza di un rafforzamento amministrativo cioè nelle persone che poi seguono lo sviluppo di questa strategia che favoriscono quel fenomeno di aggregazione tra i comuni anche la necessità di guardare non solo alla garanzia dei servizi essenziali in quelle realtà ma anche al più o in maniera con qualche strumento in più allo sviluppo economico produttivo di quelle aree perché poi si rimane ovviamente non solo se hai servizi e tra questi servizi essenziali sono quelli digitali a mio avviso ma su cui stiamo spingendo il più possibile per recuperare il ritardo perduto anche perché rientra nella mia diciamo responsabilità perché molti di quegli interventi sono finanziati con il risorso europeo che altrimenti noi non possiamo rischiamo di dover perdere l'altro aspetto è il rafforzamento di tutte quelle attività economiche commerciali artigianali che in molto spesso in quelle realtà sono veri e propri presidi sociali non solo attività economiche e anche sul tema turismo quello che dobbiamo rafforzare stiamo discutendo con il ministro Franceschini è quello di seguire proprio due direttrici sostegno alla domanda e sostegno alla domanda proprio nelle aree interne perché in questo modo anche a cominciare da questa estate noi potremmo conseguire due obiettivi che sono rilancio economico di quelle aree e distanziamento sociale o almeno un certo grado di distanziamento sociale che nella convivenza con il virus dobbiamo mantenere sull'economia della cultura sono totalmente convinto che il modello Matera sia da esportare nel discusso con uno dei protagonisti il modello Matera che è Paolo Verri con il quale stiamo anche discutendo come immaginare forme in cui si replichino quelle strategie che lì si sono rivelate di successo in una città come tu sai benissimo dove è difficile arrivare con il treno tutto questo si fa solo se siamo in grado di tenere insieme alto e basso e per arrivare alla domanda di Silvia io credo che una delle cose invece che ci ha chiarito nel caso ce ne fosse bisogno questa pandemia l'abbiamo detto da subito che ne saremmo usciti non soltanto con l'impegno delle istituzioni ma con l'impegno e la responsabilizzazione diretta dei cittadini e nelle politiche soprattutto in questo tipo di politiche che sono quelle di coesione le reti di cittadinanza attiva cioè la società e i cittadini che si organizzano da soli che si organizzano sono fondamentali alcune delle politiche delle strategie che abbiamo messo in campo come quella sulle aree interne o per esempio tutta la parte di inclusione sociale all'interno delle politiche urbane del PONmetro per esempio di cui si occupa proprio la mia agenzia per la coesione territoriale si fondano su questo concetto il protagonismo delle reti di cittadinanza attiva anche nella definizione delle stesse politiche cioè c'è un coinvolgimento che viene a monte adesso quello che abbiamo provato a fare e che stiamo facendo è di estendere queste possibilità non solo alle città metropolitane ma anche alle città medie che specialmente al sud sono i veri e propri luoghi in cui si concentra forme di esclusione sociale molto molto forte rispetto alle quali mentre sulle città metropolitane o sui piccoli comuni sulle aree interne abbiamo volte gli strumenti sulle città medie spesso invece sono quella fascia dimenticata ma che è invece la vera ossatura del nostro paese che cosa fare di più quello che bisogna fare di più è aiutare direttamente queste associazioni queste realtà che sono un valore in sé non solo per il servizio che rendono ai cittadini molto spesso supplendo a delle mancanze delle istituzioni ecco io non immagino e anzi sarei contrario a immaginare il terzo settore come in funzione appunto sostitutiva di quello che dovrebbe fare un sistema di welfare universale non lo immagino così io lo immagino come realtà che accentuino favoriscano lo sviluppo e la personalità dei cittadini soprattutto in luoghi in realtà marginali e per questo vanno anche aiutate di per sé quello che stiamo facendo anche nel confronto proprio con loro è avere una forma di in questa fase di emergenza che ha colpito diciamo quelle associazioni quelle reti quelle organizzazioni non profit molto spesso animate da giovani che lavorano precariamente in quelle realtà di aiutarle lo stiamo facendo con loro lo stiamo facendo per esempio chiedendo alle regioni di riprogrammare i fondi europei sull'emergenza ma non farlo a pioggia farlo anche sul fronte sociale nella collaborazione nel confronto con le organizzazioni del terzo settore questo è un lavoro avviato che non si è ancora concluso ma su cui c'è il mio impegno molto molto deciso benissimo grazie grazie Peppe allora abbiamo grazie alle studentesse e allo studente Gennaro che è venuto in questa in questa tornata abbiamo un altro blocco di studenti inizio con due ci sono gli anziani tra i nostri ex studenti i studenti del primo anno Federico Amerenda Alberto Fabris che saluto con molto molto piacere e poi c'è anche un terzo intervento si virà di Claudia Schettini per adesso Federica e poi Alberto sì grazie mille la mia domanda si lega all'intervento di Alessandro Areso e ad alcuni punti che sono già stati toccati in realtà dal ministro Provenzano riguarda la questione delle difformità regionali rispetto al sistema sanitario nazionale al di là dei livelli essenziali di assistenza ma anche rispetto alla garanzia di questi che spesso è purtroppo difforme se andiamo a vedere anche solo i parametri che vengono utilizzati all'Organizzazione Mondiale della Sanità per la valutazione dei sistemi sanitari ci sono veramente dei risultati del tutto diversi ad esempio tra il sistema sanitario della regione Toscana dove mi trovo e quello della regione Sicilia dalla quale provengo per fare un piccolo esempio mia mamma lavora come amministrativa in una grande azienda ospedaliera siciliana nel momento in cui ha chiesto di poter lavorare da casa durante questa emergenza l'è stato detto che al di là dei computer e della digitalizzazione che non è mai arrivata addirittura la sua azienda ospedaliera non aveva rinnovato il contratto del telefono negli ultimi due mesi quindi non avrebbe nemmeno potuto utilizzare i telefoni da casa quindi diciamo per far sì che anche il caso menzionato dal ministro dell'ospedale di Napoli non sia un'eccezione è che queste vulnerabilità dei sistemi sanitari regionali non si continuino a prestare come sappiamo che avviene alla penetrazione delle mafie che spesso purtroppo almeno in Sicilia utilizzano le prestazioni sanitarie come moneta di scambio mi chiedevo se questo momento possa essere un'occasione e se se ne è già iniziata a discutere nel governo diciamo nelle altre istituzioni preposte ad una eventuale riorganizzazione anche amministrativa del riparto di competenze tra le parti che dipendono dal sistema sanitario nazionale e quelle che vengono delegate alle aziende ospedaliere e alle entità regionali che fanno parte insieme del complesso sanitario nazionale italiano grazie bene grazie Federica Alberto grazie signor ministro per l'occasione di confronto io volevo domandare una riflessione su due aspetti il primo è quello sollevato anche dalla consulta o da alcuni membri della corte costituzionale lei stessa ha menzionato la necessità di legiferare in merito ad aspetti che potremmo riassumere in una formula tipo biopolitici sostanzialmente la qualità della vita gli aspetti forse più intimi della vita di un individuo e lo stesso Cassese osservava da un lato che effettivamente è un po' anomala la maniera in cui spesso si sta procedendo non soltanto nella legiferare ma anche nel lasciare delle norme l'interpretazione essa stessa produttrice di diritto delle frequently asked questions sostanzialmente dei funzionari che rispondono nel merito però e un'altra cosa che se l'ha detto è che non esiste un diritto per i tempi di crisi un diritto per i tempi ordinari c'è il diritto questo senza essere una critica voleva essere un'occasione anche una critica magari un'occasione di confronto proprio puntuale su quello che pensa e la seconda legata forse a questa è c'è un'economia di crisi un'economia dei tempi ordinari per esempio oggi Manfredi Alberti sul manifesto poneva il problema di come questa situazione anomala può forse diventare un'occasione per esempio riflettendo sul fatto che gli aspetti essenziali della salute della mobilità della qualità della vita richiedono una coordinazione che sia pubblica non si può lasciare semplicemente al privato qua in Veneto lo vediamo bene per quanto riguarda la sanità e a questa legherei anche non so il pensiero che tempo fa aveva fatto Benoamo in Francia dove aveva pensato una forma di revenu universal tipo reto di cittadinanza che potesse essere legato a quei lavori di cura o a quei lavori che di fatto creano coesione nelle società e vengono a supplire forse agli aspetti dove è più carente anche il welfare in molte zone grazie benissimo grazie Alberto Claudia Schettini c'è non c'è sembra di sì ecco mi sentite sì vai ok io voglio fare una domanda molto rapida ossia in una eventuale riapertura a tra virgolette macchia di leopardo le regioni del sud che sembrano essere quelle in cui vi è il minore numero di contagi potrebbero avvantaggiarsi tra virgolette e quindi colmare il divario ancora elevato che c'è rispetto al nord grazie benissimo su questo tema sulla differenziazione c'è stata anche un'intervista stamattina del gioco di Luca Bianchi cui anche Peppe deve riconoscere lui direttore della Zvimez però mi pare che ponesse il tema della possibilità che ci sia una in qualche misura avvio più rapido delle delle attività che potrebbe favorire indirettamente in qualche modo i territori nei quali il virus ha colpito o meno io direi prima di concordere questo blocco chiederei al professor Gilberto Capano uno dei nostri docenti più titolati e più affezionati o noi siamo affezionati a lui diciamo speriamo che sia una cosa reciproca di fare un intervento e poi Peppe risponde a questo blocco di domande buongiorno buon pomeriggio mi sentite buongiorno signor ministro sempre un'osservazione domanda brutale visto che quando si ripartirà se si ripartirà la questione del gap nord-sud sarà in Pellec riguarda il piano nel senso è una domanda un po' provocatoria nel piano per il sud ci sono delle ottime idee di policy tutte quante più che condivisibili io avrei una perplessità sul metodo di azione che poi è il problema quando si se noi guardiamo tutta la storia non delle politiche pubbliche solo in Italia ma anche soprattutto delle politiche pubbliche su tutte le politiche di sviluppo che si sono trittate si è visto che spesso non sempre spesso c'erano delle buone idee di partenza delle buone idee di policy ma poi quella che è mancata è l'implementazione la capacità di perseguire sul campo gli obiettivi io mi chiedo ma davvero siamo convinti che cito le parole del piano che attraverso il metodo cooperativo di attuazione rafforzata comitati di indirizzo un PSC nazionale per ciascuna missione cooperazione tra cento amministrazioni locali si possano raggiungere gli obiettivi lo dico perché uno potrebbe ammettere e accettare l'idea che forse quando ci sono gap di questo tipo servono delle strutture speciali di implementazione con dei poteri lo dico tra virgolette perché se no in questi tempi si rischia di passare per anticoastituzionali con dei poteri speciali eccetera eccetera in fondo i primi a farlo furono gli americani citiamo il classico lasciamo stare la cassa per il metodo la Tennessee Valley Authority che si venne inventata da Roosevelt era un'agenzia con pieni poteri per gestire un problema rilevante tra più stati che era il Tennessee River sostanzialmente ecco è possibile pensare di implementare un piano così coerente così ambizioso con in realtà normali procedure che noi adottiamo solitamente politiche pubbliche se è un problema speciale come è forse dovremmo avere il coraggio di pensare procedure e design organizzativo speciale era una situazione un po' provocatoria come al solito grazie grazie professor Capano Peppe lo spazio io direi così se ci dai un quarto d'ora in più visti i problemi che abbiamo avuto all'inizio ti chiederei 5-6 minuti ora capisco che è molto difficile e poi abbiamo un ultimo blocco e vai a concludere che dici sentiamo le altre domande così poi concludo e mi regolo coi tempi ti spiace Marco va benissimo così anzi grazie comunque della disponibilità ora dovremmo avere Pasquale Rossi chiedo alla regia Pasquale Rossi Giuseppe Ales Pierfrancesco Mattiolo forse qualcuno voi sì gli altri intervengono domani diciamo vai allora inizia Pierfrancesco vai ah ok buonasera e bene tutto ringraziare il ministro è sempre un piacere vederla e ascoltarla che la scuola aver organizzato il confronto e non so se possiamo fare pubblicità di più diversi rispetto a quello di Alessandro Aresu però nel libro del ministro lascia la scintilla non mi non mi non mi ho sentiti vai 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 comunque volevo la mia domanda era in quel libro si rifletteva sulla necessità di costruire lo stato un requisito per tornare ad avere uno stato strategico innovatore dovremmo chiedere questa ricostruzione da cosa dovrebbe passare nel breve o lungo periodo si dovrebbe forse ripensare anche il titolo quinto la nostra costruzione grazie benissimo io mi scuso ma nel tentativo di fare una battuta forse ho impedito che si sentisse il fatto che citava il libro la sinistra la scintilla che è l'unico altro che può essere citato in questo consesso in questo contesto il libro di Peppe Provenzano vabbè io subito mi allineo subito grandi pubblicità allora Giuseppe grazie comunque per Francesco e Giuseppe Vito Aless buongiorno grazie Marco buongiorno ministro allora io vorrei chiedere qualche riflessione su un paio di temi velocemente poco fa parlava di riaccendere in qualche modo i motori del paese il problema è quando i motori sono tanti e alcuni motori magari funzionano non benissimo appunto perché ci sono il concetto di disegualianza che è un concetto e comunque ha caratterizzato il suo operato da ministro lo si vede anche a livello di sistemi economici pensando a dopo la crisi innanzitutto abbiamo da far ripartire appunto un sud un sud comprese ovviamente le due isole che deve confrontarsi comunque con un in qualche modo con un cancro un sistema economico che deve confrontarsi con un cancro che altri non è che la criminalità organizzata quindi intanto come fronteggiamo questo si dice che effettivamente il sud delle isole non possono partire se non si contrasta effettivamente la criminalità organizzata poi domani è l'anniversario anche della morte di Piola Torre quindi insomma sembra il caso chiederlo poi un'altra riflessione vorrei chiederle sull'emorragina demografica nel suo piano se ne parlava se potesse fare un approfondimento su questo e visto che il primo maggio per me e credo anche per lei significa anche portare a delle ginestre vorrei chiederle un suo ricordo magari visto che quest'anno non potremmo esserci un suo ricordo di quel luogo e un suo ricordo eventualmente della strage di portiera delle ginestre grazie grazie a te tocchi temi che sono certamente molto cari al ministro Pasquale Rossi buonasera grazie ministro io volevo fare due domande molto veloci la prima è sostanzialmente dovuta al fatto che mentre al sud molte aziende vivono di turismo lo shock in termini di fatturato e quindi la crisi economica molto probabilmente si avverterà nella seconda fase diciamo nel secondo periodo di quest'anno quali sono le misure eventualmente messe in campo per contrastare questo fenomeno che oggi non leggiamo ancora altra cosa invece è al sud sempre lo dico da campano soffriamo una carenza infrastrutturale in termini di trasporti sappiamo che ci sono il governo ha messo in campo una serie di interventi che comunque verranno realizzati però ora più che mai forse stiamo soffrendo la carenza delle infrastrutture più banali parlo della connessione inter delle connessioni internet e quindi anche un'attività molto semplice come quella di smart working sta diventando molto complessa per le realtà del sud quali possono essere le misure che il governo intenderà mettere in campo nel breve periodo grazie benissimo grazie a te Pasquale leggo due considerazioni Andrea Bruno appunto che hanno inviato qua per iscritto Andrea Bruno ricorda che nel piano sud è uno spazio importante l'economia verde e si chiede se anche considerando che il tema dell'infinamento non si capisce bene non si conosce bene quale connessione abbia col virus ma si sta studiando anche questo aspetto non potrebbe assumere ancora maggiore importanza questo percorso di nascita sostenibile si chiede anche se Eni non dovrebbe guardare con maggior forza a questo e meno ai combustibili fossili si chiede o ti chiede la seconda domanda che è un la trovo molto bella Edoardo Menighini dice vengo dal Trentino e sono un giovane fortunato ho avuto la possibilità di studiare avere momenti di confronto crescere in un contesto positivo tante persone come me vogliono dare una mano concreta al sud Italia come possono farlo qual è la prima cosa su cui dovremmo concentrarci una volta finita questa brutta storia ti chiedo di appuntare queste due domande Samuel Boscarello ci fa un saluto perché interviene tutti i giorni siamo molto contenti di sentirlo ma veramente ti chiedo un minuto Samuel abbiamo poi forse anche l'ultimissima domanda di Simone Privitela Samuel vai grazie mille buon pomeriggio una questione il dissesto degli enti locali mi sembra un fenomeno prevalentemente meridionale da Calabria Sicilia Campania in testa adesso questo ti rimballo una questione importantissima responsabilizzare non solo le amministratorie totali ma anche le comunità stesse in merito alle scelte elettorali che fanno senza andare a cadere nel problema opposto cioè quello di essere punitivi nei confronti di aree sottosviluppate del paese che quindi non si svilupperanno mai come facciamo in Italia perché mi sembra che ancora non siamo riusciti ad ottenere un equilibrio da questi due estremi di responsabilizzare tutto tanto in nome dello sviluppo pagapantalone e responsabilizzare in maniera punitiva per cui ti tagliamo ti tagliamo l'aria se i politici locali non sono capaci di amministrare grazie benissimo grazie e io non vedo Simone Priviterra quindi forse scusandoci con lui possiamo chiudere qui l'ultimo commento che leggo da YouTube non è una domanda ma una affermazione Camilla Polena con la nostra studentessa degli anni scorsi ci dice non faccio domande ma statuisco è il nostro ministro preferito io con la sua neutralità però insomma ci tenevo anche a salutare Camilla e a dirti che evidentemente la partecipazione degli studenti dimostra che insomma sei tre preferiti dai non montarti la testa beh 100 domande però vai tu e concludi a questo punto mi conviene stare zitto per non scendere nella classifica di Camilla per non rischiare di correre questo rischio però no c'è sempre la conquista di qualcun altro quindi vabbè allora parlo e ci vorrebbe un'altra conversazione per affrontare diciamo tutte le questioni che avete posto provo ad andare diciamo per blocchi partendo da quello che mi chiedeva Pierfrancesco come si ricostruisce lo Stato il titolo quinto eccetera io non lo nascondo penso che quella sia stata una riforma frettolosa e per molti esperti sbagliata con gravi lacune come ad esempio l'assenza di una clausola di supremazia che che manca devo dire con grande onestà visto che ricopro un ruolo politico che a me non pare siano maturi i tempi nel nostro paese per riaffrontare diciamo una revisione delle competenze costituzionali tra Stato e Regioni cioè mi sembra molto difficile che sia che questo Parlamento sia in grado di affrontare diciamo una revisione costituzionale su questo tema anche perché subito prima diciamo di questa dell'esplosione di questa pandemia in realtà avevamo una spinta opposta una fortissima richiesta di autonomia e nel nostro paese c'è sempre un po' questo pendolo impazzito che oscilla tra centralizzazione e autonomia di cui spesso non si viene a capo però al di là del tema delle competenze io penso che noi siamo questa pandemia da un certo punto di vista ha segnato davvero un punto di non ritorno sul tema di cui parlava Federica all'inizio diciamo nei giorni nei primi giorni ci siamo accorti che il servizio sanitario nazionale un vanto della nostra storia repubblicana ed è una delle cose di cui possiamo vantarci diciamo come paese rispetto agli altri paesi Alessandro ricordava il caso degli Stati Uniti d'America in realtà non è un sistema sanitario nazionale ma è 20 sistemi sanitari molto diversi e la necessità di avere un presidio centrale di coordinamento più forte si è manifestata e secondo me segna un punto di non ritorno nel senso che noi diciamo da lì non possiamo non sapendo soprattutto quanto saremo chiamati a convivere con il virus o comunque avendo fatto i conti diciamo in quest'epoca in questo tempo con questo virus e con la possibilità che diciamo ne torni uno diverso nei prossimi anni l'esigenza di avere una capacità di reazione coordinata ormai è affermata questo deve evolvere proprio su questo abbiamo una riunione domani mattina col ministro Speranza nel diventare un'occasione anche per dal livello diciamo dal punto di vista centrale di colmare i divari più insopportabili noi l'avevamo messo a fuoco nel piano sud quanto questo tema sanitario fosse decisivo concentriamoci anche intorno ad alcuni poli che per esempio nel mezzogiorno su alcune patologie su alcune questioni mancano mancano del tutto abbiamo la necessità di rafforzare alcuni presidi ma abbiamo un livello di mobilità ospedaliera di emigrazione ospedaliera dovuto anche al fatto che diciamo ci sono scoperture su alcuni su alcune su alcuni tipi di patologie da affrontare ecco questo è l'occasione per anche i grandi investimenti sanitari che si sono in parte fatti che faremo che saremo chiamati a fare può essere l'occasione di un riequilibrio e noi su questo dobbiamo starci devo dire che la questione diciamo della ricostruzione dello Stato che ha un pezzo di cui qui non potremo parlare ma con cui con Alessandro siamo molto affezionati di necessità di vedere il coinvolgimento di una nuova generazione anche nei ranghi dell'amministrazione pubblica perché la nostra è impoverita in termini di risorse umane di competenze anche nuove i giovani eccetera in realtà diciamo richiama anche un po' la questione che aveva posto il professore Capano come sa perfettamente il professore in realtà questo tema della straordinarietà o dell'ordinarietà degli interventi ha caratterizzato tutta la riflessione meridionalistica nella seconda repubblica cioè noi siamo partiti dall'avere un intervento straordinario che per una parte per una prima parte ha funzionato abbastanza bene che poi ha seguito processi degenerativi proprio perché nella critica a quel modello slegato troppo dal controllo dell'amministrazione ordinaria poi abbiamo avuto una lunga fase di ordinarietà che invece non ha prodotto i risultati sperati eccetera io piuttosto che immaginare nuove strutture tra le rigolette speciali io sarei mi accontenterei di fare ordine tra quelle esistenti oggi sui temi della coesione ci sono almeno tre agenzie a livello nazionale che se ne occupano il Piano Sud al di là delle formule diciamo più o meno burocratico utilizzate noi abbiamo fatto anche uno sforzo comunicativo forse non del tutto riuscito ma ci impegneremo ancora di più e in realtà questo prevedeva cioè avere riportare a razionalità per esempio quello che fa l'agenzia della coesione in vitalia cassa depositi e prestiti con i quali stiamo provando ad avere a concordare anche interventi proprio in termini di guido territoriale perché diciamo questo è necessario anche nel supporto ai territori un supporto che come chiedeva Samuel a mio avviso non deve determinare una deresponsabilizzazione dei livelli locali cioè noi è mancato diciamo in questo nuovo assetto istituzionale dei rapporti tra centro e periferia diciamo la responsabilizzazione di ciascuno dei livelli anzi abbiamo assistito nel corso degli anni a una duplice deresponsabilizzazione da parte del livello centrale perché la responsabilità era del livello comunale o regionale e nel caso in cui i servizi gli interventi gli investimenti da realizzare non venivano effettuati ai cittadini l'unica sanzione che si limitava ad avere lo Stato era quella del definanziamento facendo pagare due volte sui cittadini medionali i costi di quell'inefficienza senza invece immaginare la capacità di un intervento sostitutivo io non immagino un commissariamento generalizzato del nostro paese ieri abbiamo assistito alla cerimonia sul ponte di Genova ecco il modello Genova se è una suggestione diciamo per fare in fretta per fare velocemente le cose è una suggestione positiva ma al di là che sia giusto o sbagliato è inimmaginabile pensare che quel modello possa essere replicabile per tutto il complesso delle opere pubbliche quindi diciamo approfondiamo la riflessione professore anche su questo siamo disponibili a cogliere ogni critica suggerimento eccetera però quel rapporto diciamo tra centro e periferia con un rafforzamento del ruolo anche operativo del centro andava proprio nella direzione di responsabilizzare entrambi questi livelli di governo e superare quella doppia de responsabilizzazione il rapporto tra centro e periferia riguarda anche il tema della differenziazione della disomogeneità nella gestione della crisi che abbiamo visto in maniera drammatica nella prima fase dell'esposizione della pandemia perché proprio per effetto anche di quelle delle scelte che sono state assunte in maniera differenziata nel nostro paese si sono pagati dei costi anche in termini di diffusione del contagio e questo è un tema che ha avuto a che fare anche con il punto che solleva Alberto della nostra capacità decisionale di come decidiamo io diciamo colgo numerosi elementi di fondatezza delle preoccupazioni espresse da diversi costituzionalisti e le ascolto con attenzione faccio notare che diciamo prima dell'adozione dei dpcm le alcune misure di restrizione della libertà personale potevano essere adottate secondo l'ordinamento italiano con semplici ordinanze sindacali con ordinanze del ministero della salute dei sensi diciamo della legislazione sul rischio sanitario e che da un certo punto di vista il dpcm che è stato non diciamo frutto del caso ma è disciplinato con fattispecie esplicitate da un decreto legge che è stato convertito da tutto il parlamento diciamo è il frutto di un processo diciamo che non c'era di governo di questa emergenza che abbiamo dovuto costruire questo processo decisionale migliorabile sicuramente non siamo fuori dalla costituzione come qualcuno dice perché diciamo quei dpcm sono emanati ai sensi di una disciplina di una normativa primaria che è il decreto legge del parlamento è un passo avanti rispetto alla semplice ordinanza per ragioni di rischio sanitario che determinava anche una differenzazione territoriale molto molto rischiosa su alcuni temi se si può migliorare certo si deve migliorare quello che è certo è che bisogna restringerlo circoscriverlo sia nelle fattispecie di intervento sia nella tempistica quella modalità di govern di decisione deve essere limitata esclusivamente all'emergenza e sulla fase 2 quello che dico è che noi dobbiamo adottare il più possibile dei criteri razionali cioè non possiamo immaginare come è avvenuto questa settimana che le regioni dove il contagio era maggiore emanavano ordinanze che allentavano le misure a differenza diciamo delle altre dove addirittura c'era il contagio zero e rimanevano in lockdown nel percorso diciamo questo non mi sembra di certo modo di procedere razionale nella nella adozione di un criterio razionale a mio avviso non può che essere tenuta in considerazione dopo questa prima fase di lenta graduale riapertura che riguarda tutto il territorio nazionale la differenzazione territoriale sulla base non certo della necessità di colmare il divario quello dobbiamo farlo a prescindere diciamo dalla pandemia e non diciamo non è il criterio con il quale possiamo aprire il criterio con il quale possiamo aprire in alcune regioni anche quelle del sud se la curva epidemiologica ce lo consente se il grado di saturazione delle terapie intensive eccetera l'esigenza di colmare quel divario riguarda invece le ragioni per cui lo facciamo la necessità secondo me di rilanciare lo sviluppo su questo sono abbastanza d'accordo con quello che diceva Alberto che ovviamente noi non siamo affatto in tempi ordinari e che abbiamo la necessità di mettere in campo risposte straordinarie già prima della crisi avvertivamo questa prima della pandemia avvertivamo questa esigenza in particolare dal punto di vista territoriale e forse anche in Europa diciamoci la verità perché l'eurozona non viveva una condizione felice florida prima che scoppiasse questa pandemia la Germania era entrata quasi di recessione già prima che scoppiasse l'emergenza covid insomma la necessità di ripensare anche un po' il modello di sviluppo alla luce della sostenibilità qui non è non abbiamo davvero il tempo per affrontare questa discussione ma io penso che anche da questo punto di vista una politica più attenta ai territori sia necessaria il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda delle nazioni unite per il 2030 non è perseguibile senza immaginare uno sviluppo meno uno sviluppo più diffuso non esclusivamente concentrato in alcune aree o magari in una sola città nel nostro paese come abbiamo rischiato si determinasse uno sviluppo che guardasse alla capacità di diffondere questo non è il compito dell'amministrazione comunale di una grande città che funziona bene e che deve continuare a farlo è compito proprio della politica nazionale di chi per esempio come me si occupa dei divari territoriali e dunque il tema delle infrastrutture di colmare divari di cittadinanza di assicurare un diritto alla mobilità per venire alla questione sollevata da Pasquale che è uno dei temi fondamentali del nostro sud dove sembra che l'unica mobilità possibile è quella della ripresa dei fossi migratori vabbè chiudo su questo che è una delle cose diciamo l'emigrazione la nuova emigrazione non si ferma per decreto non si ferma nemmeno con alcune iniziative per esempio una che si era inventato Enrico Letta e Marco il controeso ti ricordi altre cose che stiamo rafforzando noi resto al sud si forse non è il caso nemmeno di fermarla cioè noi abbiamo la necessità di innescare un circuito in cui si attrae idee persone capitali questo è quello che dobbiamo immaginare nel nostro sud e questo lo fai con lo sviluppo che è la vera risposta alle mafie Piola Torre non combatteva le mafie in nome del rispetto della legge non era un poliziotto non era nemmeno un magistrato era uno che aveva un'idea dello sviluppo della modernizzazione di quell'isola che era incompatibile con l'intermediazione mafiosa che è una forma estrema di sfruttamento dell'uomo sull'uomo questo è il mio ricordo di portella che vi lascio con il ricordo delle parole che l'anno scorso pronunciò uno degli uomini a cui sono più legato che il vecchio Emanuele Macaluso che accompagnai in un ricordo in un momento molto bello e Giuseppe Aless non c'era ma c'era suo papà sentilo e salutano Benissimo grazie grazie Peppe in fondo queste tue parole questo clima trasferisce anche l'idea di una comunità quella della scuola che vive di molti rapporti e di molte amicizie che sono andate qui si sono consolidate e che si proiettano poi in tanti altri legami quindi davvero grazie a te grazie a tutti gli studenti che sono intervenuti poi faremo un sondaggio per capire se dopo questo tuo intervento ho rischiato di perdere di scendere in classifica faremo un sondaggio che statuirà grazie a tutti quanti ricordo a tutti che domani alle 15 c'è la nostra andreata lecture annuale lo ha ricordato Enrico Letta all'inizio con la professoressa Lucrezia Reitlin e poi il sabato 2 maggio in mattinata alle 11 avremo un incontro con Antonio Misiani e con Luca Bianchi che farà un po' da contraddittorio riferendosi ai dati sull'economia italiana che il vice ministro dell'economia ci parlerà un po' di più dei provvedimenti del governo quelli adottati e quelli in via di adozione per affrontare il tema della crisi economica essenzialmente grazie ancora a tutti e a domani ciao 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 ciao